Ho scelto questo brano perché quando Pietro descrive l'atto di chinarsi di suo padre in avanti e guardare il cielo mi ci sono ritrovato immediatamente. Ho sentito subito una profonda affinità con questo romanzo. Mi sono visto nei gesti, nelle parole, nella natura che a volte ti sussurro in emozione, altre volte c'è e basta. Sicuramente una copia delle otto montagne me la porterò nella mia amata Baita e lassù passerà gli inverni, mentre d'estate mi ritroverò nelle parole di Cognetti. Mi chiamo Nicola Magrin, sono un pittore, dipingo da Accurello e vivo a Monza, vicino al parco. Non sapevo se fidarmi perché nel frattempo ero cambiato io. Può anche apparirti del tutto diverso da adulto un posto che amavi da ragazzino e rivelarsi una delusione. Oppure può ricordarti quello che non sei più e metterti addosso una grande tristezza. Non è che avessi tutta questa voglia di scoprirlo, ma c'era quella proprietà che mi spettava e la curiosità ebbela meglio. Andai su alla fine di aprile, da solo, con la macchina di mio padre. Era sera e risalendo la valle riuscivo a vedere soltanto lo spazio illuminato dai fanali. Anche così notavo parecchi cambiamenti. I punti in cui la strada era stata rifatta e allargata, le reti di protezione sulle scarpate, le cataste di tronchi abbattuti. Qualcuno si era messo a costruire villette in stile tirolese e qualcun altro a cavare sabbia e ghiaia dal fiume che era stato arginato con sponde di cemento dove una volta scorreva tra sassi e alberi. Le seconde case buie, gli alberghi chiusi per la bassa stagione o per sempre, le ruspe immobili e gli escavatori con il braccio piantato per terra davano ai paesi un aspetto di decadenza industriale, come quei cantieri abbandonati a metà per fallimento. Poi, mentre mi stavo facendo deprimere da quelle scoperte, qualcosa attirò la mia attenzione e mi chinai verso il parabrezza per guardare in su. Nel cielo notturno delle forme bianche mandavano una specie di chiarore. Impiegai un momento a capire che non erano nuvole, erano le montagne ancora coperte di neve. Avrei dovuto aspettarmelo in aprile, ma in città la primavera era inoltrata e io non ero più abituato a sapere che andando in alto si va indietro con le stagioni. La neve lassù mi consolò dalle miserie del fondo valle. Subito dopo mi accorsi di avere appena ripetuto un gesto tipico di mio padre. Quante volte l'avevo visto mentre guidava chinarsi in avanti e alzare gli occhi al cielo, per controllare il tempo o studiare il versante della montagna, o solo ammirarne la forma mentre passavamo. Così lo ripetei di nuovo quel gesto, questa volta con attenzione, immaginando di essere mio padre a 40 anni e aver appena invocato la valle, con una moglie seduta accanto e un figlio sul sedile posteriore, in cerca di un posto buono per tutti e tre. Immaginai mio figlio che dormiva. Mia moglie mi indicava i paesi e le case e io fingevo di darle ascolto. Ma poi, appena lei si voltava, mi sporgevo in avanti e guardavo su, obbedendo al potente richiamo delle cime.